La mia prima impressione è che noi stiamo parlando in un ospitale a livello internazionale. La mia attenzione è che non solo abbiamo un edificio bonito, il nostro equipe non è colonna, è verde anche con i bambini. Abbiamo un'organizzazione moderna, automatizzata, di un livello più profissional alto, che non solo è buono per il nostro paese, ma anche per il cliente internazionale. Non solo, ma anche per il nostro paese, per il nostro paese le loro Produzioni, e anche per il nostro paese. Cioè, sicuramente per il nostro paese, quindi non possiamo fare rispettare il nostro paese.